Carnagione chiara, capelli corti, alto 1,90 m, aria distinta, linguaggio forbito. Ha raccontato di essere un volontario dalla parrocchia, un'offerta in cambio di strofinacci, cerotti e altri prodotti per l'igiene. Poi con la scusa di un bicchiere d'acqua è riuscito a intrufolarsi in casa e a quel punto la richiesta di denaro si è fatta pressante e ben più ingente. Truffatore in azione a Barzio, la polizia locale dell'altopiano Valsassina lancia un appello, in particolare agli anziani, che più facilmente vengono presi di mira dai malintenzionati. Un richiamo alla prudenza dopo quanto accaduto la scorsa settimana e dopo le segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati, scrive il vicecomandante Andrea Piazza in una nota. Mercoledì un uomo ha tentato di raggirare un anziano del paese, ha detto di agire su incarico del parroco Don Lucio Galbiati e di Don Gianmaria Manzoni, responsabile della pastorale giovanile. Polo e Gins ha speso i nomi dei sacerdoti per portare a termine il suo inganno, conclusosi con la richiesta di 50 euro. La vittima ha chiamato la parrocchia che ha spiegato di non avere in corso nessuna raccolta di fondi porta a porta, modalità peraltro mai utilizzata. Attenzione alle truffe, scrive la polizia locale. L'appello a diffidare degli sconosciuti verrà diffuso anche durante le messe, anche in considerazione dell'aumento della presenza di anziani in Valsassina durante il periodo estivo, che vista la lontananza dalle proprie famiglie potrebbero essere ancora più facile bersaglio per i balordi. Non aprite agli sconosciuti, in caso di presenze sospette non bisogna esitare a contattare subito il numero unico di emergenza 112.